Devo dire, dunque sui rifiuti abbiamo avuto questo problema enorme dell'impianto, noi avevamo quattro impianti dove portavamo tutti i rifiuti indifferenziati di Roma, uno è andato discrutto il 2 dicembre del 2018, ai primi mesi del 2019 il commissario straordinario che gestisce due impianti di Colari ci ha comunicato che li avrebbe mandati in manutenzione tutti e due e facendoli funzionare in modo alternato, per cui noi per sei mesi del 2019 abbiamo avuto l'opportunità di portare questi rifiuti in due impianti sui quattro che normalmente utilizzavamo, questo abbiamo fatto uno sforzo enorme per gestire la situazione, peraltro è stata chiusa anche la discarica di Colleferro con anticipo, per cui è stata una situazione contingente drammatica, ma abbiamo cercato di tamponare la situazione per un po' di situazioni negative all'interno della città, l'abbiamo avuto e tant'è vero che il giudizio peggiore lo abbiamo avuto proprio nel 2019, però abbiamo per esempio adesso già recuperato quasi due punti rispetto al 2019, un'insufficienza comunque, però siamo in risalita, lì ci sarebbe da dire tantissimo anche sulla questione dei bilanci di Ama che presto affronteremo, e anche lì stiamo affrontando il tema per le cose, stiamo prendendo proprio il tema con forte determinazione, ci sono parecchie altre cose che mi sarebbe piaciuto dire, per esempio ho ascoltato la consigliera Piccolo che parlava delle buche di Roma, che ne abbiamo fatta una su dieci, detto francamente per quanto riguarda questo aspetto in particolare c'è qualcuno che ha calcolato che Roma ha una totale di strade che supera la distanza che va da Mosca a Dubai, noi abbiamo messo centinaia di milioni di euro per rifare le strade, è ovvio che non è sufficiente, ma i cittadini si stanno rendendo conto che qualcosa abbiamo fatto. Lega, si avvia a concludere per favore. Va bene, vado in conclusione, vado proprio in conclusione, io volevo dire questo, ci sono delle cose che non sono andate benissimo, ci sono altre dove abbiamo fatto, a mio avviso, un buon lavoro, credo di poter dire che nel suo complesso in generale il giudizio tra un bilancio positivo o negativo di questi cinque anni, io credo che possiamo ampiamente dire che il bilancio è positivo perché abbiamo veramente cambiato la storia di questa città, ci siamo ritrovati ad affrontare delle situazioni economiche incredibili con un nuovo codice delle apparti che è intervenuto appena ci siamo insediati a Roma, per cui con delle difficoltà enormi abbiamo ricominciato a costruire passo passo, mattone su mattone, questa città, c'è ancora molto da fare, termino il mio intervento, ricordando che anni fa in uno dei numerosi attacchi che ha subito anche la sindaca, un giornalista aveva chiesto al sindaco di Milano, Sala, cercando il suo consenso, un giudizio su Virginia Raggi e l'amministrazione di Roma e devo dire che in quel caso il sindaco di Milano è stato molto onesto perché ha detto scusate ma voi che cosa pretendete dalla sindaca Raggi? Milano per uscire dalla crisi, quella di mani pulite, ci ha messo almeno dieci anni scusate, che cosa pretendete? Concludo con queste parole e dunque è ovvio che le basi le abbiamo messe con la prossima amministrazione che mi auguro che i cittadini romani possano confermare, potremo fare molto altro ancora di quello che abbiamo già fatto. Grazie.